Eccoci ben ritrovati per questa nuova edizione di Spazio Notizia che apriamo parlando dell'emergenza siccità delle iniziative e gli interventi della regione per sostenere i settori maggiormente danneggiati come l'agricoltura o l'allevamento. Parliamo quindi della bonus fieno in questo caso che va incontro agli allevatori. Salgono a 17 i centri utili per la distribuzione, distribuzione tra l'altro già partita. Sette nuovi centri operativi preposti alla distribuzione del fieno agli allevatori siciliani che hanno diritto al bonus introdotto dalla regione. È stato aggiornato l'elenco dei punti di distribuzione sul territorio che da 10 passano così a 17 per meglio rispondere alle esigenze dei beneficiari e accelerare le operazioni di approvvigionamento. La misura, finanziata con 20 milioni di euro, è stata voluta dal governatore Renato Schifani per limitare i danni dovuti alla siccità. Il nuovo elenco completo, approvato dal commissario delegato per l'emergenza idrica in agricoltura e zootecnia Dario Cartabellotta, comprende una struttura nell'Enese, il centro di meccanizzazione agricola ESA di Agira, tre nella provincia di Siracusa, Agrifiera a Noto e l'area autoporto dell'Asia a Melilli, a cui si aggiunge adesso l'area protezione civile di Palazzolo a Creide. E ancora due punti di distribuzione nel Nisseno, al centro di meccanizzazione ESA di Serra di Falco, si affianca il CCR di Mussomeli, solo per mezzi fino a 150 quintali. Le strutture individuate per la provincia di Ragusa sono cinque, la zona industriale del capoluogo, Foro Boario a Modica, Fiera e Maia a Vittoria, il mercato orto-frutticolo di Roccazzo a Chiaramonte e Gulfi e il mercato agricolo di Donna Lucata a Scigli. Nel Catanese sono tre i centri aperti. A quello dell'area di protezione civile di via Cristoforo Colombo a Caltagirone se ne aggiungono altri due, ovvero il centro della zona artigianale di Santa Maria di Licodia e ancora quello nella frazione di Vizzini-Scalo in prossimità della strada provinciale 38I a Vizzini. Il nuovo elenco include anche tre centri in provincia di Trapani, quello nel piazzale antistante il Palazzetto dello Sport di Contrada Strasatti a Marsala, quello nel piazzale area artigianale di Contrada D'Agala Appoggio Reale e il piazzale area parcheggio antistante Baglio Cofano a Custonaci. La quantità di foraggio da distribuire agli elevatori dipende dall'intensità del danno subito sui territori in base alle precipitazioni rilevate dal servizio informativo agrometeorologico siciliano. Gli elenchi con i beneficiari sono stati pubblicati nella sezione del portale istituzionale della regione siciliana dedicata all'assessorato all'agricoltura. Le operazioni di consegna avverranno obbligatoriamente alla presenza di un dipendente dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura. E sempre dalla regione 13 milioni destinati invece a centri per minori, si parla dunque di politiche sociali, si parla di iniziative in favore di giovani per contrastare le marginazioni, dice l'assessore Albano. 13 milioni di euro per interventi di adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di edifici pubblici da adibire all'erogazione di servizi non residenziali destinati ai minori, ovvero centri sociali e aggregativi diurni rivolti alla popolazione di fascia di età 4-18 anni per lo svolgimento di attività socioeducative e ludiche. I fondi a valere sul programma europeo PR Sicilia 2021-2027 saranno assegnati dall'assessorato della famiglia e delle politiche sociali della regione siciliana che ha pubblicato un avviso rivolto ai comuni dell'isola e alle loro associazioni, consorzi, unioni, anche associati con altri enti pubblici. Gli interventi che potranno essere effettuati riguardano la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizie, la riqualificazione degli immobili esistenti, l'adeguamento e il miglioramento dell'impiantistica, incluso l'efficientamento energetico, il superamento delle barriere architettoniche e la realizzazione di soluzioni tecnologiche di domotica per garantire alle persone con disabilità l'accessibilità all'immobile e alle parti comuni, l'adeguamento normativo in termini di igiene edilizia, benessere per gli utenti, sicurezza statica, sicurezza impianti, accessibilità, interventi per l'allineamento strutturale con le transizioni verde e digitale. Sono esclusi però gli interventi che prevedono le residenzialità, le attività dovranno essere svolte infine all'interno degli edifici nel corso dell'intero anno solare e per almeno quattro giorni settimanali. Sono tanti gli eventi in Sicilia in questo agosto, in questa estate, allora soffermiamoci sugli eventi in programma a Erice, si parla di arte, si parla di cultura e ovviamente tanto divertimento. Erice, estate 2024, entra nel vivo, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi della Sicilia occidentale. Il ricco programma di eventi che spazia dalla musica alla letteratura, dall'arte alla scienza sta attirando in queste settimane un pubblico sempre più vasto, consolidando il ruolo di Erice come centro culturale di primo piano. Il Festival internazionale di musica antica, curato dall'associazione MEMA, continua a incantare gli spettatori con esibizioni di altissimo livello negli spazi del Chiostro dell'Istituto Wigner San Francesco. Parallelamente, le iniziative dell'associazione Vivere Erice e le conferenze organizzate dall'associazione Moica stanno arricchendo il calendario con presentazioni di libri, momenti musicali e dibattiti su temi di attualità. Come nelle edizioni precedenti, Piazza San Giuliano si trasforma in un cinema all'aperto per circa un mese con l'iniziativa Agosto al Cinema. Il programma mantiene la sua formula vincente con proiezioni gratuite di film che spaziano dai grandi classici alle ultime uscite. Quest'anno è stata inaugurata una sezione pomeridiana di film dedicata ai più piccoli. La rassegna Magici Grappoli d'Estate, parte integrante dell'Erice Estate 2024, a cura dell'associazione Strada del Vino Erice Doc, ha deliziato i residenti e visitatori con serate che hanno combinato letteratura, musica ed enogastronomia. Un'attrazione di grande richiamo è la mostra World Schifano e la Pop Art, visitabile fino al 4 novembre, è curata da Marco Di Capo, a Giordano Bruno Guerri e Pasquale Lettieri. L'esposizione offre uno sguardo unico sull'arte contemporanea. Grande appuntamento invece a Selinunte, uno dei siti archeologici più importanti della Sicilia. Sarà l'occasione per fare il punto della situazione sugli scavi che sono tuttora in corso. Proprio a Selinunte l'assessore regionale Scarpinato parla di una stagione d'oro per l'archeologia siciliana. Fare il punto sugli scavi in corso a Selinunte è comunicare i primi risultati delle campagne condotte dall'archeologo Clemente Marconi per l'Institute of Fine Arts di New York e per l'Università Statale di Milano. Sono i temi al centro dell'incontro, traccio dal passato, il racconto degli scavi che si svolgerà domenica 11 agosto alle 18 al Baglio Florio nel parco archeologico di Selinunte in provincia di Trapani. Dalla recupero di un'antica sima con testa di leone alla scoperta di uno dei porti della città. Selinunte ci ha regalato una stagione d'oro per l'archeologia, afferma l'assessore ai beni culturali e all'identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato. Anche per questi mesi del 2024 si preannunciano ritrovamenti di altissimo livello. Oltre alla relazione sulle attività svolte nel parco, che riprenderanno dopo l'estate, domenica verrà presentato il primo numero degli annali di Selinunte, pubblicazione editoriale a cura del parco in collaborazione con la Litost, che renderà note a cadenza annuale le relazioni sulle operazioni archeologiche e sui risultati scientifici. L'incontro sarà moderato da Giuseppe Bonanno, esperto di letteratura archeologica, che insieme a Erasmo Miceli ha curato la realizzazione degli annali. Saranno presenti il direttore del parco archeologico di Selinunte, Felice Crescente, gli archeologi Clemente Marconi e John Albers e alcuni autori delle pubblicazioni. In questo primo numero, in particolare, sono descritte le operazioni scientifiche condotte alla foce del Gorgo Cottone sui rinvenimenti dell'antico Porto Orientale, in cui fu ritrovata a fine 2023 la splendida Sima Leonina, un reperto ancora tutto da studiare. La cronaca, partendo da Palermo, dove un uomo è finito in manette, arrestato dalla polizia, era in possesso di una pistola, l'arma era carica e aveva anche delle cartucce. Come detto il soggetto è finito in manette, vediamo tutti i dettagli nel servizio. La Polizia di Stato ha tratto in arresto a Palermo un uomo di 55 anni per detenzione di armi. Dopo i colpi di pistola esplosi contro alcuni magazzini nel quartiere Zen 2, gli agenti hanno intensificato i controlli e le perquisizioni anche con i cani specializzati nella ricerca delle armi. In casa dell'indagato, i poliziotti del commissariato San Lorenzo hanno trovato una rivoltella impacchettata sotto uno scaffale in legno della veranda. Oltre al revolver calibro 21, carico e con il tamburo chiuso, sono state trovate altre 15 cartucce. Sono in corso indagini per accertare se i numeri della matricola, poco leggibili, sono stati cancellati o se si sono usurati con il tempo. Il GIP ha convalidato l'arresto e disposto ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Sono in corso indagini per comprendere la provenienza dell'arma. Da Palermo a Catania furto all'interno di un bar con il malvivente che è stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza, aveva rubato del denaro contante all'interno della cassa dell'esercizio commerciale. Durante la notte si è introdotto in un bar in piazza Mancini Battaglia, asportando il denaro dalle casse. Scoperto, grazie al sistema di videosorveglianza, un pregiudicato di 39 anni è stato denunciato dagli agenti del commissariato Borgognina. A far scattare le indagini, la denuncia presentata dai proprietari del bar, i quali, all'orario di apertura, hanno accertato che nella notte i gnoti, dopo aver forzato la porta d'ingresso, si erano introdotti all'interno del bar, asportando la somma di 3.700 euro. Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza a Borgognina, acquisita la querela, hanno avviato immediatamente le indagini al fine di risalire agli autori. Dallo studio dei filmati, dei sistemi di videosorveglianza presenti nel bar e nelle strade limitrofe, sono riusciti a individuare l'autore del fatto. Il malvivente, infatti, intorno alle ore 4 della notte, giunto a bordo della propria autovettura in piazza Mancini Battaglia, dopo aver scavalcato una porta a vetri alta a circa due metri, si è introdotto nella veranda esterna del bar. Una volta all'interno, utilizzando degli attrezzi da scasso che aveva con sé, ha forzato la porta d'ingresso, introducendosi nell'esercizio commerciale e prelevando dalle casse il denaro contante. Consumato il reato, l'uomo ha ripreso la propria auto, dandosi alla fuga. Il 39enne, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stato intiodato anche grazie al fatto che le immagini acquisite hanno permesso il riconoscimento di alcuni dettagli, come le scarpe indossate al momento del furto, nonché l'auto utilizzata. E sempre a Catania, in due, tentano di rubare all'interno di un garage condominiale. L'intervento della polizia ha portato al fermo dei due. Uno dei due malviventi era un sorvegliato speciale, per lui è scattato l'arresto, il complice invece è stato denunciato. Gli agenti della polizia di Stato hanno colto in flagranza due pluri pregiudicati catanesi nei garage di un condominio nei pressi del Corso Italia, con chiavi e grimaldelli utili per forzare le serrature. L'intervento è scaturito dalle segnalazioni dei condomini che hanno chiesto l'intervento degli agenti, dopo aver notato i due individui, a loro sconosciuti, a girarsi proprio all'interno dei locali garage. In pochi istanti i poliziotti della squadra volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono giunti sul posto e hanno trovato i due ancora dediti ad armeggiare proprio nello stabile. Sottoposti a perquisizione, sono stati trovati con gli oggetti tipicamente impiegati per lo scasso e per forzare le serrature. I controlli hanno rivelato come uno dei due soggetti, un 47enne, fosse sorvegliato speciale, ragion per cui è stato arrestato per la violazione delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria, mentre l'altro soggetto è stato denunciato in stato di libertà per il possesso di arnesi atti allo scasso. Ancora una volta la collaborazione tra polizia e cittadini ha consentito di scongiurare l'esecuzione di condotte criminose, per questo non appena ci si accorge di qualcosa di sospetto è sempre fondamentale richiedere l'intervento al numero unico di emergenza 112. Ad Avola nel Siracusano è finito in manette invece un uomo che da anni maltrattava ed aggrediva la propria compagna, lui è finito ai domiciliari con braccialetto elettronico. I carabinieri della stazione di Avola hanno tratto in arresto un quarantenne del luogo gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia. L'uomo è indagato perché da oltre dieci anni avrebbe ripetutamente maltrattato la convivente, una trentenne, con ingiurie, umiliazioni e percosse perpetrate anche in presenza dei figli minori, oltre alle violenze psicologiche e di prevaricazione impedendo alla donna di uscire di casa e obbligandola a interrompere le relazioni sociali. Inoltre, in una delle ultime aggressioni, la vittima sarebbe stata afferrata per i capelli e trascinata sulle scale. A seguito della denuncia sono state avviate con tempismo le indagini coordinate dalla Procura di Siracusa, dalle quali sono emersi diversi episodi di maltrattamento e lo stato di sopraffazione al quale la trentenne era sottoposta. Gli elementi di indagine raccolti sono stati posti al baglio dell'autorità giudiziaria Aretusea, che ha chiesto al Tribunale una misura cautelare nei confronti del quarantenne, arrestato e posto ai domiciliari con braccialetto elettronico. Riferiamo qui a più tardi per una nuova edizione di Spazio Notizia.